Si chiama più Bari più Smart, la piattaforma di sviluppo dell'area metropolitana che la Cigele di Bari presenterà il prossimo 15 febbraio alla presenza di Susanna Camusso. E sarà sempre il leader della Cigele nazionale a tenere a battesimo il 15 febbraio la Fondazione Archivio Storico e Centro Studi intitolato Arrita Maierotti che si batte per i diritti delle tante donne lavoratrici. Ben ritrovati su Cigele Bari TV, si chiama più Bari più Smart, la piattaforma di sviluppo dell'area metropolitana che la Cigele di Bari presenterà il prossimo 15 febbraio alla Camera di Commercio alla presenza del segretario nazionale Susanna Camusso. Con questo piano per la città e per la sua area metropolitana la Cigele di Bari lancia una vera e propria sfida per il futuro. Sentiamo il parere del rettore del Politecnico Nicola Costantino. Rilancio e crescita dell'area metropolitana di Bari attraverso l'alleanza frattori del mondo della politica, delle imprese, delle istituzioni e dell'università. La Cigele di Bari diventa punto di raccordo di tutte queste istanze. È un punto di raccordo di cui c'è bisogno perché è un punto di forza ma anche un elemento di grossa complessità del nostro territorio è proprio la numerosità e la diversificazione degli attori. Io credo che il fatto che a Bari sia stato risparmiato il destino di monocultura industriale che ha colpito altre nostre città come Taranto o Brindisi sia stata una grande fortuna. Ma questo fa sì che noi abbiamo molti soggetti da coordinare, quindi grosse potenzialità se riusciamo a farli andare tutti nella stessa direzione, ovviamente in una direzione di crescita. Nell'ottica della creazione di buona occupazione si colloca l'Urban Center, questo laboratorio di progetti per lo sviluppo del tessuto produttivo e lavorativo dell'area metropolitana. Il Politecnico di Bari cosa ne pensa di questo Urban Center? Sì, l'Urban Center io vedo soprattutto come un punto di incontro tra le istituzioni, le imprese e i cittadini per recepire le loro istanze e per allineare le azioni pubbliche e private al loro soddisfacimento. Da questo punto di vista mi fa piacere ricordare che nel 1983, quindi quasi 30 anni fa, Bari è stata la sede del primo laboratorio di quartiere in Italia realizzato dal professor Dioguardi che è stato il mio maestro insieme a Renzo Piano nel quartiere Iapigia al quale lavorai anch'io e che fu una grande palestra proprio di confronto tra le istituzioni e le popolazioni locali. La Camera del Lavoro di Bari ha effettuato uno studio capillare non solo della città ma dell'intero territorio per accedere poi ad una reale operatività del programma attraverso strumenti come Smart City e Piano Strategico. Come si colloca il Politecnico nell'ambito di questo progetto? Il Politecnico è molto attivo nell'ambito di questo progetto in particolare sull'aspetto Smart City. Noi abbiamo recentemente, ci siamo recentemente aggiudicati insieme a Enel, IBM e altre imprese anche locali un significativo finanziamento per un progetto di ricerca del Ministero dell'Università proprio sulle Smart City. Nel ex stabilimento scianatico acquistato dal Politecnico una quindicina di anni fa stiamo realizzando un grande laboratorio su queste tematiche. Ci sono già una cinquantina di persone al lavoro ma ne verranno molte di più e quindi è una maniera per fare ricerca però applicata immediatamente al territorio nel quale viviamo. L'obiettivo finale di questo progetto è cambiare migliorandola la fisionomia del territorio valorizzando le sue vocazioni sociali e produttive scoprendo al contempo nuove potenzialità in un processo sempre dinamico. È questo l'obiettivo del piano che presenteremo il 15 febbraio? Sì ed è un obiettivo nel quale io personalmente, ma tutto il Politecnico ci riconosciamo appieno. Oggi essere dei tecnici, essere degli ingegneri, essere degli architetti significa soprattutto coniugare la sostenibilità ambientale ma anche sociale, economica, civile e con lo sviluppo. E per far questo bisogna confrontarsi con le forze sociali. Io penso che da questo punto di vista il ruolo che sta svolgendo la CGL sia un ruolo assolutamente essenziale e fondamentale. Forse con un po' di supplenza rispetto a quello che qualche istituzione pubblica dovrebbe fare ed è troppo distratta per fare. I centri urbani sono l'ambiente più adatto per la trasmissione di conoscenze e di informazioni tra persone e imprese. Dall'intensità e dalla densità di questo flusso dipendono competitività, capacità innovativa e crescita delle economie locali. Positiva quindi la scelta della CGL di Bari è un dibattito sullo sviluppo futuro dell'area metropolitana di Bari. Ne è convinto Francesco Prota, docente di macroeconomia dell'Università degli Studi Aldo Moro. Sentiamolo in questa intervista. Le città rappresentano nella moderna economia della conoscenza il fulcro delle attività economiche. Rappresentano la possibilità di attrarre nuovi talenti dall'esterno, di dare la possibilità di creare nuove imprese, nuove imprese altamente innovative. È così dovunque. Abbiamo esempi dello sviluppo delle grandi città negli Stati Uniti e nei paesi europei. Quindi è un'occasione assolutamente fondamentale da non sprecare. L'articolazione che lo Stato ha avuto in questi ultimi anni, tutto il processo di decentramento, vede una sua espressione anche nell'istituzione delle città metropolitane, che sicuramente, come dicevo, sono un'ottima occasione di sviluppo perché permettono di integrare diversi aspetti. Le infrastrutture che citava lei, siamo in un'università quindi mi fa piacere sottolineare l'importanza dell'alta formazione, così come delle infrastrutture. Una dotazione che la nostra città, insieme agli altri comuni che costituiranno l'area metropolitana, ha in buona dotazione. Io sono fiducioso che avrà successo perché questo tipo di strategie per rappresentare un velo valore hanno bisogno di essere condivise. Io credo che la volontà di coinvolgere i diversi stakeholder in maniera forte e propositiva da questo documento emergano chiaramente, quindi credo che questo, l'elemento della condivisione, sia fondamentale per il successo di un'iniziativa del genere. Dinamismo economico e qualità della vita o un connubio inscindibile? Come si colloca all'interno di questo progetto? È un connubio inscindibile, dice benissimo, perché le città per rappresentare un fattore di attrazione devono garantire una qualità della vita elevata. È noto che ovviamente le infrastrutture, la ricchezza economica di un territorio sono dei fattori catalizzanti che non possiamo trascurare, ma sempre più in un'economia in cui sono le persone i soggetti centrali, in cui sono i talenti, devono essere i talenti l'obiettivo di ogni politica di attrazione, è anche banale dirlo, ma le persone vogliono vivere in posti belli. Da questo punto di vista un progetto del genere deve enfatizzare la bellezza. Mi passi questo termine, è importante stare, vivere in un posto bello. Questo aiuta lo sviluppo delle idee, aiuta come dicevo la crescita dei talenti locali e perché no l'attrazione di altri talenti dall'esterno. Quindi la dimensione della qualità della vita è assolutamente fondamentale e da questo punto di vista anche il Sud, o meglio forse soprattutto il Sud, ha una parola da dire. E lo avete sentito dai nostri titoli. Il 15 febbraio il leader della Cigelle Susanna Camusso sarà a Bari in mattinata, alla Camera di Commercio per la presentazione della piattaforma sullo sviluppo dell'area metropolitana, mentre alle 16 terrà battesimo la fondazione, archivio storico e centro studi della Cigelle di Bari intitolato a Rita Maierotti, moglie di Filippo D'Agostino, figure storiche della lotta partigiana. Scopriamo insieme l'importanza che questa donna ha avuto nella storia di Bari e nella storia dell'antifascismo attraverso le parole di Vito Antonio Leuzzi, direttore dell'Ipsaic, istituto pugliese per la lotta all'antifascismo. Archivio storico, fondazione e centro studi della Cigelle di Bari intitolato a Rita Maierotti. Perché proprio a questa figura storica? La Maierotti ha rappresentato un grande punto di riferimento della difesa delle donne lavoratrici sin dagli inizi del Novecento. Su un famoso settimanale socialista, Le donne lavoratrici, pubblicò esattamente un secolo fa il romanzo di una maestra. La Maierotti si trasferì a Bari nel 1915, vinse un concorso indetto dal comune di Bari e svolse la sua attività di insegnante e di maestra, ma ebbe un grande ruolo nella difesa della donna lavoratrice, ma soprattutto nelle manifestazioni contro la guerra. e dal 1915 le organizzazioni di difesa dei lavoratori ebbero questo punto di riferimento che è rimasto nella memoria collettiva sino ad alcuni decenni fa. In tutta la Puglia i lavoratori ricordavano questa donna, questa militante, che all'uscita delle chiese, allora era difficile organizzare dei comizi, riusciva a attirare, riusciva a cogliere l'attenzione delle donne sui grandi temi del lavoro, della giustizia, ma soprattutto questa grande battaglia per l'emancipazione femminile. La CGL di Bari ha voluto mettere in piedi, dar vita a questo centro studi che si occuperà di andare a rispolverare quello che è stato il passato del sindacato per trovare anche un'attualizzazione presente e quindi rivalutarne il ruolo? È un grande recupero della memoria perché la Camera del Lavoro di Bari, sorta proprio agli inizi del Novecento, ha rappresentato un punto di riferimento per l'intera regione e non solo per le lotte contadine ma per l'organizzazione della vita operaia, delle lotte nella città. È una Camera del Lavoro che si è battuta anche per i grandi temi, per le grandi questioni che allora assillavano la regione, dal risanamento dei centri abitati, alla questione sanitaria, ma soprattutto alla battaglia dell'acqua. Una Camera del Lavoro che rappresenta un pezzo di storia di Bari, un pezzo di storia della vita sociale, della vita dell'emancipazione culturale dei lavoratori. Ed è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci sul nostro canale Cigelle Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cigellebari.it. Il nostro settimanale di approfondimento va in onda anche su Delta TV, canale 78 del Digitale Terrestre, Puglia e Basilicata, tutte le mattine intorno alle 7.40 e in replica alle 24 circa. Buon proseguimento e arrivederci. Grazie per la visione!